Bella raga, ciao raga, allora adesso vediamo di risolvere il problema del microfono e lo risolviamo al volo eh, adesso vediamo subito di risolvere, scusate per il microfono da gaming, ma purtroppo it is what it is, sometimes, cosa dobbiamo fare? Mettere a posto il microfono, guadigliamo questo dispositivo, risolviamo al volo eh, quale è il mio problema? No 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 vazzone è tutto a posto, lascia il microfono da gaming, gira la cam verso il muro e riprendi il led goku, aspetta, esatto ti augura risolviamo, fra non puoi capire, ho unito fagioli, cipolla, tonno e uova in una piadina, benissimo Axelrus, sono contento, fammi rileggere fagioli, cipolla, tonno e uova, va bene amico, non stai, non stai giocando, non stai giocando, hai fatto sul serio questa sera, danni grazie qua per i 24 mesi, ora riparo il computer eh? non sta funzionando la mia soluzione informatica che è una cosa mai successa prima credo, non credo che mi sia mai successa una cosa simile, qua ci vorrebbe veramente il signor Zhang caricando dispositivo, ciao Marco, c'ho un problema col microfono come senti, niente regà, non va al microfono, bisognerà, toccherà fare col microfono da gaming, non so, ma che cazzo starà accadendo, boh, toccherà usare il microfono da gaming tutta la live, hai fatto da staccarlo, ho appena aggiornato i drivers, bella regà, non funziona? No, si sente il microfono da gaming ancora? Ma come si sente sto microfono? Porco diaz, ma cos'è che sta creando questo disturbo? Adesso eh? Subito attacco informatico, sì, molto grande, molto grande, non so davvero quale cazzo sia il problema qua, oggi Dara sta facendo le scommesse sui robot homemade, cioè? E niente bimbi, non so cosa dire, è un problema mai sorto prima, anche aggiornando i drivers, continua ad essere tutto imputtanato, quindi purtroppo temo che oggi ho subito un bel cazzo nel culo, no, non si è staccato nessun cavo, hai provato a dare pugno molto forte al tavolo? No, non servirà, tocca staccare la live, bimbi non ci so avversi, no, no, vabbè, la possiamo fare anche col microfono da gaming, ma capisci che mi fa cadere le palle nel mare, questa cosa, prova a staccare? Non c'entra, staccare il contatore, no, forse spengere e accendere il computer potrebbe risolvere davvero il problema, ma, cioè, non ne vale la pena riaprire il computer perché c'è un microfono da gaming, cioè, dai, affanculo, vabbè, senti, non importa, c'è un microfono da gaming, abbiamo sempre vissuto come dei pezzi di sterco, e continueremo a farlo, dai. Vai nella schermata suoni e delle impostazioni, vedi se è disattivato il microfono da streamer? Eh? Dalle impostazioni di cosa? Di Windows, di OBS? Dalle impostazioni di sistema audio, ma... Fra? Che microfono è? Quello vero? Bisogna ammettere che Diego ha trovato la soluzione informatica, incredibile, ma vero. Grazie al cuore, Diego, anche per la soluzione informatica. Non era esattamente quello che hai detto, però ho provato a fare una cosa alternativa, l'ho visto nella lista dei dispositivi, ho detto, boh, proviamo a disabilitarlo noi e riabilitarlo, e ha funzionato questa cosa qua. Ha funzionato questa cosa qua. Anche se, boh, mi sembra di averlo fatto, analogicamente, più volte. Ma cosa stavamo facendo poi? Non so, ho perso la memoria, raga, aiutatemi! Perché io sono diventato così?